finalmente le nostre lasagne sono pronte con la sua crosticina vedete molto molto alta perché ho messo veramente tanto sugo alla fine adesso verranno sfornate e ovviamente utilizzerò i prodotti anche della vigilia tipo le frittelle altre cose perché è tutta roba che si può consumare ancora per qualche giorno quindi senza seconda e le lasagne le frittelle e le varie verdure sotto olio ecco